Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi noi parliamo di Coptagon e di altre droghe usate in guerra per togliere la paura. Le anfetamine usate dai terroristi dell'ISIS sono solo le ultime di una lunga serie di sostanze usate in guerra per togliere le inibizioni, sconfiggere la paura, sopportare la fatica e innalzare la soglia del dolore. Dai nazisti ai soldati vichinghi, passando per Vietnam e Afghanistan, la tragica storia della chimica al fronte. Capitolo 0. C'è un motore invisibile che toglie ai terroristi dell'ISIS anche l'ultimo scampolo di umanità risparmiato da fanatismi e ideologie. Si chiama Coptagon e molto spesso scorre nelle loro vene al momento in cui compiono una strage. La droga della jihad, come è stata soprannominata, è un cloridrato di fenetilina, un composto di anfetamina e altre sostanze stimolanti, da decenni diffuso nei paesi del Golfo e ora diffusosi in modo capillare tra chi combatte la guerra santa. Capitolo numero 1. Gli effetti. Gli effetti sono perdita di giudizio, resistenza alla fatica e euforia, abbandono di ogni inibizione e le pasticche sono vendute tra i 5 e i 20 dollari a dose. Chi le assume può non mangiare e non dormire per giorni e pervaso da un senso di onnipotenza che fa sentire invincibili. Siringhe con tracce di Coptagon, visto che il Coptagon si può anche iniettare, sono state trovate nella casa di uno degli attentatori di Parigi e la stessa droga era nel sangue dei terroristi di Sousse in Tunisia. Ma quella tra guerre e droghe è un'associazione che a più volte è occorsa negli ultimi secoli. Capitolo numero 2. Nazisti. Di anfetamine fecero largo uso per esempio i soldati di Hitler. Quando il 14 maggio 1940, dopo solo quattro giorni le truppe dell'armata nazista conquistarono l'Olanda, fu determinante la loro capacità di combattere senza sosta, giorno e notte, senza dormire. Secondo quanto sostenuto da Neumann Holler, nel recente saggio Dach-Total-Hausch, la totale euforia, questa resistenza sarebbe stata garantita dal Pervitin, un farmaco militarmente prezioso, usato regolarmente anche dal generale Rom e dallo stesso Hitler. Capitolo numero 3. Come caramelle. La pillola dopante era stata sviluppata nel 1937 dal medico Fritz Oschelt, rimasto colpito dagli straordinari effetti delle benzedrine sugli atleti americani che avevano partecipato alle Olimpiadi di Berlino nel 1936. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, veniva distribuita ai soldati dai medici militari. Secondo Der Spiegel, più di 35 milioni di dosi di Pervitin da 3 mg furono confezionate per le forze da terra e le forze aere tedesche tra l'aprile e il luglio del 1940. Per il loro uso massiccio sui tank, sui carri armati tedeschi e austriaci, le tavolette di Pervitin erano state soprannominate con il termine Panzerschokolade, cioè cioccolato per i carri armati. Capitolo numero 4. Dipendenza. Di anfetamine si servì tra il 39 e il 45 anche l'esercito giapponese, che nel dopoguerra ha pagato caro gli effetti dell'abuso di queste sostanze. Ne utilizzarono per sopportare estenuanti sessioni di volo anche gli alleati. Gli statunitensi le impiegarono anche per un motivo psicologico, non volevano che i propri piloti si sentissero svantaggiati rispetto ai tedeschi. Tuttavia, il ricorso alle anfetamine non fu esattamente indolore. I piloti alleati accusarono effetti collaterali come forte irritabilità e incapacità di incanalare la concentrazione. Molti militari diventarono dipendenti da queste sostanze e continuarono ad abusarne anche a guerra finita. Capitolo numero 5. Vietnam. Durante il conflitto del Vietnam 1955-1975, l'abuso di eroina, marijuana e altre droghe divenne talmente comune tra i soldati americani che il 10-15% sviluppò una qualche forma di dipendenza. Così il presidente Nixon si vede costretto a finanziare la prima grande espansione di programmi per il trattamento delle tossicodipendenze. Capitolo numero 6. Tempi moderni. La lista continua a fine giorni nostri. Un farmaco stimolante creato per curare la narcolessia e inserito nella lista proibita delle sostanze dopanti, il cosiddetto Modafinil, è attualmente testato su soldati di varie nazionalità per prolungare il numero di ore di veglia delle truppe. Si arriva a 48 ore senza dormire lisci come l'olio. Fu dato per la prima volta anche ai piloti di EFOS americana nel 2003 in occasione dell'invasione in Iraq e si lavora ora sulla struttura della molecola per prolungare ulteriormente le capacità di rimanere svegli. L'utilizzo di amfitamine tra i soldati americani in Afghanistan è invece emerso, per esempio, con l'incidente della Tarnac Farm nel 2002, quando il pilota di un F-16 statunitense, forse sotto amfitamine, uccise con fuoco amico quattro soldati canadesi. Capitolo numero 7. Non è una novità. Non è che l'utilizzo di sostanze psicoattive in battaglia sia una prerogativa dell'epoca moderna. Molti secoli prima dell'avvento di droghe sintetiche, i soldati greci e romani preferivano lanciarsi contro le schiere nemiche, non ubriachi necessariamente, ma un po' brilli, per innalzare l'assoio del dolore e inibire la paura. L'ustanza di miscelare vino all'acqua della borraccia sarebbe stata mantenuta dai soldati francesi fino agli anni 30 del Novecento. Capitolo numero 8. Invincibili, almeno per un po'. Prima della battaglia, i Bersekir, che erano feroci guerreri vichinghi votati al dio supremo della guerra odino, entrava in una sorta di trance che li rendeva particolarmente feroci e sensibili al dolore. Credendosi invulnerabili, si lanciavano contro il nemico vestiti di sole pelli, forse anche sotto l'effetto di droghe. La stessa fiera esaltazione guidava gli Ash-Shashin, la principale sette degli Ismailiti, una corrente dell'Islam shiita contro cui combatterono i cruciati del 1200. Sembra che il loro nome, da cui deriva il termine assassini, venga dal flore arabo di Al Ashish Shiyun, coloro che sono dediti al Ashish. Capitolo numero 9. I guerrieri inca masticavano foglie di coca per restare svegli. Allo stesso scopo, due secoli fa, i soldati prussiani assumevano cocaina, con suetudine che sarebbe rimasta anche in seguito con caffeina e nicotina ad aggiungersi al cocktail. E l'elenco potrebbe continuare di cultura in cultura, di sostanza in sostanza, con effetti analoghi e sempre le stesse tragiche conseguenze. Ad attacco compiuto stare svegli e vigili non serviva più, quindi si ricorreva ad altre droghe per sopportare il droghe delle perdite, delle ferite, delle amputazioni. Tra il 700 e il 900 la morfina fu ampiamente usata per curare le ferite d'arma da fuoco e perfino la dissenteria tra i soldati impegnati in battaglia, tanto che dopo la guerra civile americana si coniò l'espressione Soldiers' Disease o Army Disease per indicare la dipendenza da questa sostanza. Con questo ultimo capitolo, però, abbiamo anche noi finito il video. Fateci sapere che cosa ne pensate, che cosa ne pensate se avete mai sentito parlare di Coptagon, per esempio. Questo è molto molto importante. Che cosa ne pensate dell'utilizzo e della combinazione di droghe con la guerra? Commentate qui sotto. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere tutti i nostri aggiornamenti. Non dimenticatevi anche di lasciare un like e noi ci parliamo la prossima volta con un nuovo episodio. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.